Musica Amici di Onda Libera, oggi siamo a Stacciola, un borgo nel comune di San Costanzo, conosciuto soprattutto per la Sagra della Crescia. Ma non tutti sanno che in realtà qui si svolge anche la Scuola della Crescia. Vanda fa parte del Comitato Cittadino ed è anche una delle insegnanti. Quindi cosa ci puoi dire di questa scuola? Dunque lo scopo di questa scuola è stato proprio quello, ci siamo prefissi in sostanza, di far conoscere la Crescia, non tanto dal punto di vista del gusto, diciamo, perché chiaramente tutti quanti l'avevano assaggiata e quindi la conoscono, ma dal punto di vista qualitativo soprattutto. Quindi quali sono le materie prime usate, qual è la tecnica di lavorazione, il tutto però unito anche alla conoscenza del territorio. Quindi un pochino la storia del borgo, come è nata questa idea di fare la Crescia insieme e soprattutto perché facciamo la Scuola della Crescia. Facciamo la Scuola della Crescia perché in questi anni c'è stata proprio una richiesta da parte soprattutto dei giovani, perché in linea di massima quelli che frequentano la scuola sono soprattutto giovani, sono ragazzi, ragazze, ragazze, desiderosi di imparare un po' le varie fasi. Ecco, questo prodotto che nasce così e che nei due giorni della Sagra tutti vedono alla luce del sole in tutte le sue fasi, quindi vediamo l'impasto e l'impasto è veramente un qualcosa di bello da vedere, perché magari tutti pensano che noi lavoriamo con delle impastatrici e invece non è vero perché noi abbiamo gli impastatori, sono ragazzi che mettono a disposizione la forza delle loro braccia proprio per creare questo prodotto che fa gola tanti, diciamo. Un'altra caratteristica anche lì molto bella è la cottura, la cottura chiaramente attira molto perché tutti quanti vedono il forno pronto per cuocere, queste teglie, queste piccole teglie vengono tutte messe in numero quantitativo sui 70 e quindi nel giro di due o tre minuti vengono sfornate e quindi chiaramente la gente è attratta molto da questo, subito vengono servite e quindi tutti volevano imparare, capire che questo prodotto così gustoso, qual era il suo eater, diciamo. E quindi abbiamo deciso di fare questa scuola della cresce, la scuola della cresce è nata nel 2008, abbiamo iniziato così, diciamo quasi per caso, però poi da un anno all'altro abbiamo visto che la gente è contenta, la gente viene, la gente apprezza, apprezza questo perché lo scopo, come dicevo prima, non è soltanto quello di far conoscere la cresce di per sé ma di capire proprio gli usi, le tradizioni del nostro paese di Stacciola e quindi chiaramente è un discorso un pochino più ampio anche capire come proprio è nata nel tempo questa crescia. E quello che abbiamo notato in questi ultimi anni è proprio la riscoperta da parte dei giovani di queste tradizioni locali, cosa che invece ai primi anni della Sagra, quelli che venivano, diciamo, erano più che altro gli abitanti dei paesi vicini, dei paesi limitrofi, magari perché attirati da questi odori, sapori che ricordavano un po' l'infanzia chiaramente, no? Invece in questi ultimi tempi assistiamo proprio ad un afflusso anche di turisti, vengono tanti turisti e soprattutto questi giovani. Quanti sono i partecipanti alla scuola quest'anno? I partecipanti di quest'anno sono 35, in genere il numero si attesta sempre sui 25, 30, 35, di più non possiamo neanche noi andare perché chiaramente i locali sono quel che sono, quindi noi come lavoriamo, l'organizzazione è questa. Di queste due giornate la prima è dedicata alla parte teorica, quindi insegniamo, più che altro spieghiamo prima come è nata, ecco l'idea della crescia e come è nata qui nel nostro paese, diciamo, passiamo poi a parlare soprattutto del forno perché una delle caratteristiche è proprio dovuta al forno, a questa cottura che avviene in un forno con una temperatura elevata in pochissimi minuti, questa è la caratteristica. Spieghiamo un attimino le materie prime che servono, quindi la lavorazione e quindi la parte teorica, diciamo. Il giorno successivo si inizia prima, si inizia dalle 17 del pomeriggio e si comincia invece a lavorare, quindi è la parte pratica. Quindi si dividono i partecipanti a gruppetti di due persone e ad ognuno di loro verrà dato un chilo di farina e quant'altro servirà poi per fare questa crescia e ognuno si metterà un pochino all'opera, aiutato naturalmente da noi volontari che ci siamo, ci siamo in buon numero. E poi dopo si mangia, ovviamente. Certamente, certamente, il momento aggregante, diciamo, è proprio quello quando una volta che abbiamo cotto tutte queste cresce tutti quanti ci sediamo ed è una festa, insomma, da trascorrere insieme. E alla fine, chiaramente, consegneremo anche un diploma, questa è una copia del diploma, è un piccolo attestato di partecipazione, chiaramente noi lo chiamiamo diploma, diploma non è, però è un attestato di partecipazione e devo dire che tutti quanti l'apprezzano, l'apprezzano tanto e molti mi hanno detto lo mettiamo in mostra nella nostra cucina. Come dire, anche io so fare la crescia. Quest'anno poi il ricavato dei partecipanti va anche per una buona causa? Certo, abbiamo stabilito insieme, in comitato, ma ne abbiamo parlato anche ieri sera nella lezione teorica e anche tutti i partecipanti si sono mostrati molto positivi in questo ed evolveremo il ricavato alla Caritas Diocesana di Senigallia per acquistare materiale da pulizia che servirà in questi giorni ancora di emergenza dell'alluvione. Ecco, questa ci sembra una buona causa, tutti si sono trovati d'accordo, chiaramente. Grazie, Vanda, allora. Prego, prego. Grazie.